Prenotare una visita specialistica o una prestazione di diagnostica strumentale online dal proprio computer o anche dal cellulare. Per ora è possibile nelle zone di Massacarrara, Lucca, Viareggio, Livorno e Grosseto. Nei prossimi mesi il servizio si estenderà a tutta la Toscana. La novità è stata presentata dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, che ha sottolineato come, attivando questo nuovo servizio semplice, veloce e sicuro, Regione Toscana continui sulla via della semplificazione. A inizio marzo 2019 era stato pubblicato il portale dedicato ai cittadini sui tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, che in ottemperanza, quanto previsto dal Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa, mostra, con aggiornamento mensile, i risultati relativi al rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per ciascun ambito territoriale e regionale. Ora è il momento del nuovo servizio di prenotazione online, che sfrutta la piattaforma informatica del CUP unico regionale, il cosiddetto CUP 2.0, avviato anch'esso nel 2016 ed ora pienamente attivo e funzionante. Sul fronte sanità ci sono altre novità, a partire dalla decisione del Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, di procedere al cambio della direzione regionale. Chiuso il contratto con Monica Calamai, l'incarico è stato affidato a Carlo Tommassini, che per nove anni ha diretto l'azienda ospedaliera universitaria Pisana. Questo è il commento dell'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi. Guardi, noi abbiamo professionisti di grandissimo valore, sia la dottoressa Calamai che il dottor Tomassini, che è arrivato stamani in direzione, sono professionisti di grande valore, il nostro lavoro andrà avanti in continuità con il lavoro fatto dalla dottoressa Calamai, che è stato un lavoro di grande pregio su tanti aspetti e il dottor Tomassini lavorerà in continuità. Quindi io sono contenta perché ho avuto la possibilità di lavorare con tutti i professionisti di altissimo valore, che peraltro sono ancora al servizio della sanità toscana, perché la dottoressa Calamai ancora rientra. Insomma, al servizio della sanità toscana, in assenza non avrà altri incarichi. Comunque sono sicuramente professionisti di grande valore che anche le altre regioni e le altre sanità cercano e questo è un titolo di merito per la nostra sanità. Sono convinta che il lavoro della direzione dell'assessorata continuerà ad andare avanti bene come è stato fatto negli ultimi anni. Grazie. 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 Grazie.